Un'ora, ma che più d'anno è... Senti, a parte siamo... Siamo santi con me la piazza, siamo fortunati. Sì, siamo fatti, io non lo sanno. Ma comunque avevamo un baglio d'occhi più. Comunque, ma... Non ti sei saprei, il tuo è bello. Ma proprio, perché... Oggi ho fatto un esperimento che si chiama. E da quello che abbiamo capito, era proprio un'unica famiglia, praticamente, erano i nomi. Non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero. Però se usate la 5D, non è un altro nome.